Buona vista alla vostra ectoraria della pegna, buona estilosa, di Andiacombus, eh, è spagnolo. Tutti ragazzi, ragazzi, chiamatevi tutti voi, perché il calcio è il forza più bello del mondo. Ragazzi, siamo qui nell'estate di Rocca Gorga, per i vigori di Rocca Gorga, del mio paese nativo, originario, di nascita, per dirvi il mio parere sull'arrivo di Igor Tutor sulla panghina bianco-cerestra, la panghina dell'Azio. Allora, cresciuto calcisticamente in squadre in Croate, Spalano, Manca, Ajax, secondo me, per poi portare nella Juventus dove vince anche due scudetti tra due supercoppa italiana e la Coppa Italia, egli è un allenatore che è molto debito a usare il modulo 3-4-2-1, poi variato dal 3-5-2 con gli esterni che spingono, appunto, sulle fasce, i guindi di centro campo. Inoltre, mi ha ricordato per aver salvato il Verona, per essere coltato sulla panghina del Verona, appunto, ottenendo la salvezza nell'ultima stazione, grazie allo sparenzio salvezza contro Spezia, ma Verona, secondo me, si sarebbe salvato ugualmente, appunto, con lo sparenzio, questa è la matematica certezza. Bene, ritengo che lui possa aiutare molto la nostra squadra, quindi sempre e comunque forza razio. Dai, Igor Tutor, tocca a te. Speriamo bene. Se fate errato, quasi 56 anni, insomma, poco meno di 50 anni, quindi un allenatore non espertissimo, però comunque saprà dare un apporto in più alla squadra. A presto, ragazzi, buona la prima, buona rima. Inizio alla prossima. Scrivetevi, buona la prima.